Allora, carissimo Comendatore Aldrighetti, insomma abbiamo notizia che con il Cardinale Scola che da Venezia si trasferisce a Milano ci sarà anche un pezzo di chioggia, giusto? Beh, in effetti sì, perché ho avuto l'incarico di ideare lo stemma del nuovo arcivescovo di Milano, che è una delle sedi più prestigiose e più antiche del mondo. Vasse pensare che proprio a livello di numeri la popolazione dell'intera diocesi è di 5.250.000 persone con 4.800.000 cattolici. Ecco, lo stemma non è una cosa da poco anche perché è una sede particolarmente prestigiosa e conosciuta. Ma praticamente cosa succede? Ogni volta che un Cardinale viene trasferito si fa un nuovo stemma? No, non è così. Lo stemma in effetti per la radica ecclesiastica inizia oggi come oggi quando uno diventa vescovo. Poi può succedere che cambiando la sede, proprio per necessità storiche, araldiche e pratiche, debba o in tutto, ma generalmente in piccola parte, modificare lo stemma. Io avevo già avuto l'onore di creare lo stemma quando il Cardinale Scola è stato nominato Patriarca di Venezia, che la curia patriarcale mi aveva chiesto se così potevo equidiare lo stemma e assieme a scuola abbiamo deciso come farlo. Passando a Milano ovviamente sono stato richiesto dovuto in parte modificarlo perché essendoci il capo patriarcale di San Marco non era possibile mantenere nella sede ambrusiana, per cui al posto del capo patriarcale di San Marco ho inserito il capo di Milano. Un'altra domanda comandatore, ma questo è uno dei lavori più importanti che ha fatto lei? Beh sì e no, ecco, la cosa che così mi ha esaltato di più nella mia vita è stato in effetti lo stemma del Comune di Venezia. Sotto l'amministrazione Cacciari sono stato incaricato perché c'erano 40-50 stemmi in uso e nemmeno uno era giusto, per cui con decreto Presidente della Repubblica è stato un lavoro di 8 anni con pubblicazioni molto ponderose, stemma, bandiera, gonfalone e sigillo alla città di Venezia, come d'altro canto fatto anche la provincia. Per stemmi ecclesiastici invece la cosa che è più curiosa è questa, che ha avuto la possibilità e l'onore di ideare lo stemma della diocesi più estesa nel mondo come territorio, che è un vicariato degli Emirati Arabi, vicariato apostolico e vescovo è lo svizzero Paul Inder, al territorio più grande perché tutto lo Yemen, Qatar e Emirati è una diocesi unica. Poi lei, se non sbaglio, segue anche tutto il protocollo del Comune, tutti i vari eventi istituzionali, ha una funzione che ho già... durante la precedente amministrazione lei era, se non sbaglio, mi aiuti a ricordare la sua funzione? Beh, ho sempre avuto una passione e predilezione anche perché le cose venissero fatte pur nella pochezza di mezzi in maniera bella e dignitosa. Ecco, il cerimoniale è sempre stato il mio pallino, cercare ecco di accogliere le persone e anche di rispettare quelle che sono le norme minime di una cerimonia perché tutto va davanti nel miglior modo possibile. Ecco, il cerimoniale, anche se sono in pensione da diversi anni, in qualche maniera, ecco, una mano le la do ancora in comune, richiesto anche dall'attuale signor Sindaco. Benissimo, grazie Comandatore, grazie a lei.